Benvenuti! Nel 2019 Google, ancora più del solito, si rivela strumento in grado di offrire molteplici impieghi per la didattica digitale e la nostra vita quotidiana digitale. L'attenzione oggi la poniamo su un prodigioso strumento che Google mette a nostra disposizione che è Google Documenti. Nel caso di smartphone e tablet si tratta di una applicazione, in molti casi non preinstallata ma da scaricare da Play Store o da App Store, nel caso di dispositivi Apple, per quanto riguarda l'utilizzo su personal computer si tratta di una applicazione web. Cosa fa Google Documenti? Sostituisce in moto applicativi offline, quindi soggetti ad installazione per la videoscrittura, come Microsoft Word o LibreOffice Writer, per citare i principali. vantaggi di Google Documenti? Senza dubbio sono rappresentati dalla possibilità di salvare il nostro lavoro in automatico e direttamente sul cloud di Google, dunque Google Drive, e la possibilità di lavoro in cooperazione. Quindi possiamo immaginare uno scenario di cooperative learning attuato in classe o a casa o in altri contesti mediante Google Documenti. Come accedere? Partiamo da Google motore di ricerca. Abbiamo qualunque browser, in questo caso Google Chrome, ma anche Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Safari ed altri. Consiglio di cliccare in alto a destra sul pulsante App Google, il pulsante che mostra il menu delle piattaforme di Google, e di partire cliccando su Google Drive. Come potrete vedere, ora io accedo con un account scolastico Google Suite, quindi l'account di uno degli istituti scolastici in cui presto servizio, ma ovviamente è possibile accedere con un qualsiasi account Gmail personale. Vado ad entrare, ad inserire opportunamente la password, clicco avanti e a questo punto accedo al contenitore generale Google Drive. Ricordo che Drive, nello scenario Google Suite, offre spazio illimitato per l'archiviazione, mentre Google Drive, nello scenario personale, quindi accedendo con account Gmail, offre 15 gigabyte, attenzione, di archiviazione in forma gratuita, condivisi tra tutti i servizi Google. Ecco perché in un contesto scolastico ha senso pensare alle Google Suite e alle Google Apps. A questo punto osservate, clicco su nuovo in alto a sinistra, vado a cliccare proprio documenti Google. Attendiamo qualche secondo, sarà sufficiente una connessione internet almeno discreta, ed ecco la nostra area di lavoro. Come potete osservare abbiamo anche in questo caso barra del titolo, barra dei menu, subito sotto a seguire, e barre degli strumenti. Primo consiglio che mi sento di dare, sovvertendo un pochettino una consueta regola dell'informatica, è quella di assegnare ora il titolo al documento che stiamo per redigere, perché come potete vedere il documento viene, d'altronde lo fanno anche gli altri applicativi, nominato come documento senza titolo. Quindi subito un click e in questo caso vado a digitare relazione prima a, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché un click all'interno dell'area di lavoro, dunque sul foglio, e vado ad osservare il cursore. In questo caso, come vedete, la confidenza sarà massima, nel senso che abbiamo tipologia di fonte, dunque di carattere, tra cui scegliere, corpo del nostro carattere, quindi la dimensione, e poi consueti bold, dunque il grassetto, l'italic dunque il corsivo, e l'underline dunque il sottolineato. Ricordiamoci che B, I e U stanno per G, C ed S in altri applicativi. Il vantaggio di Google Documenti è evidente. In questo momento io vado a scrivere, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Sottopongo, scriviamo e digitiamo in maniera corretta, alla vostra attenzione, andiamo a spaziare, questo documento, eccetera, eccetera, eccetera. Il documento già ora è salvato. Salvato dove? In Google Drive. Lo vediamo anche all'altezza della barra dei menu. Il principio dunque qual è? Che cliccando su file io non vado a trovare salva con nome, poiché non avrebbe senso, ma vado eventualmente a trovare scarica. Per avere una copia locale, cioè una copia offline, sempre a disposizione, sul mio computer qualora io ritenessi di non fare pieno affidamento sulla connessione ad internet, o fossi semplicemente prudente. Ricordo con l'occasione che il formato corretto per far circolare e condividere i documenti non è DocX, dove la X finale rappresenta un formato proprietario ed un ostacolo, ma il formato interoperabile, come si dice, cioè che consenta la massima gestione e leggibilità, è il formato standard ODF, in questo caso essendo un testo, formato open document, lo andiamo a rivedere, ODT. Questo formato viene gestito in maniera nativa, cioè subito da LibreOffice, aperto e gestito regolarmente da Microsoft Office e dai principali editor che possiamo utilizzare a casa e a scuola. Ripeto, questo è per scaricare. Nel lavorare online la facilità è massima. A questo punto io sono il proprietario di relazione prima A. Come posso fare a condividerlo e metterlo a disposizione di altri utenti? Vado a cliccare su condividi in alto a destra e do la possibilità di fare che cosa? Di dire molto bene, questo documento è un documento che verrà dato in lettura, in visione o dato in cooperazione. In questo caso io inserisco l'indirizzo email del mio destinatario, in questo caso lo spedisco dal mio account Google Suite al mio account Google personale. Nello scenario di Google Classroom, insomma questo sarà oggetto di altro video e altra formazione, sono già all'interno di un ambiente protetto. In questo caso per facilità prendo il documento e lo condivido assegnando gli indirizzi email dei destinatari. Attenzione, clicca sulla tendina a destra. Può modificare uguale al simbolo della matita? Questo consente il lavoro cooperativo. Può visualizzare simbolo dell'occhio. Pongo alla tua attenzione un documento in lettura ma non desidero che tu lo modifichi o per errore lo alteri. La nota che andiamo ad apporre qui è un breve commento, una breve spiegazione al mio o ai miei destinatari del contenuto del documento. Attenzione, in questo caso io vado a cliccare può modificare, aggiungo una nota, ecco a te il documento di cui abbiamo parlato e poi vado a cliccare semplicemente su invia. Stai condividendo con andrea.cartotto.gmail.com che non fa parte dell'organizzazione DigiSuite. Cioè utilizzando Google Suite io vengo anche portato a conoscenza del fatto di uscire o meno da un certo contesto. Ovviamente se rimaniamo su indirizzi scolastici questo avviso non viene nemmeno mostrato. Ora io clicco sì e il documento è da intendersi subito condiviso. Dove si troverà questo documento? Questo documento si trova regolarmente in Google Drive, quindi va nel Google Drive del destinatario nella voce condivisi con me. Vado proprio a simulare l'apertura da parte del nostro destinatario. Chiudo con X la mia scheda del browser, clicco come vedete in alto a destra sul mio account scolastico, clicco su esci e vado ad accedere con il mio account personale. Utilizzo un altro account, vado a digitarlo. Qua siamo naturalmente nello scenario account personale. prima, se vi ricordate, ho redatto il documento con account scolastico. Vado in condivisi con me, ma come potete vedere in accesso rapido già si vede relazione prima A. Quindi il documento è effettivamente subito condiviso. Vado a cliccarlo e ad aprirlo dunque con un doppio clic. Come vedete visiono il testo naturalmente che avevo in precedenza, lo posso modificare, integrare e non sarà necessario risalvarlo perché ogni modifica viene salvata. E come potete osservare so anche la modifica ultima da chi è stata effettuata. L'ultima modifica è stata effettuata cinque minuti fa da Andrea Cartotto, il mio precedente account scolastico. Se immaginiamo uno scenario di classe, se tutti e venti gli alunni hanno in questo momento aperto davanti al naso entrando con il loro account questo foglio, avendo l'accortezza di dire loro ad esempio con invio di spaziare, dunque di andare a capo e di suddividere le righe, io posso per la giornata mondiale della gentilezza, per la giornata dedicata alla pace, per scrivere a ciascun alunno un pensiero o una riflessione all'interno di un unico documento. In questo Google è particolarmente efficace, il cursore cambierà colore per ciascun alunno e se io sulla LIM sto osservando i miei alunni lavorare, ciascuna etichetta dell'alunno mentre digita, oltre a cambiare colore, mostra il nome dell'utente, cioè di chi sta scrivendo. Ecco l'utilità di Google Documenti, oltre a quella, come appunto ricordavo di avere la relazione prima a comodamente consultabile e condivisibile anche in punta di dito da smartphone e tablet. Buon lavoro dunque con Google Documenti e con le Google Apps. Grazie.